Nessuna novità positiva nella vertenza System House, System Data Center, quanto denunciano i rappresentanti di USB Lavoro Privato, Francesco Marchese, del coordinamento provinciale, e Giuseppe Maniglia, coordinatore USB Telecomunicazioni Taranto. Da circa quattro mesi la protesta di lavoratrici e lavoratori riguarda la profonda riorganizzazione degli orari di lavoro. Su questo e su altri aspetti, USB Lavoro Privato chiede da tempo risposte e ha deciso di passare all'azione con uno sciopero di 14 ore dal 27 al 30 novembre. Ricordiamo che appunto a settembre è stata introdotta una nuova organizzazione del lavoro che estende gli orari del servizio da lunedì alla domenica, quindi sette giorni su sette. Di fronte a questa imposizione unilaterale mai condivisa con le rappresentanze dei lavoratori, i lavoratori avanzano rivendicazioni molto chiare. Chiedono una migliore distribuzione dei carichi di lavoro nei giorni festivi, una migliore distribuzione dei riposi infrasettimanali. In sostanza chiedono che vengano ascoltati i loro bisogni. Il tempo è scaduto e l'ora delle risposte e i rimandi non sono più concepibili. Quindi in assemblea, nelle varie assemblee che abbiamo fatte con i lavoratori, si è deciso di proclamare un pacchetto di ore di sciopero, 14 ore di sciopero da fare entro fine mese, entro il 30 di novembre, che saranno organizzate praticamente con le ultime due ore di tutti i turni di venerdì, sabato e domenica e l'intero turno di lunedì.